Hai bisogno di assistenza su dichiarazioni o rimborsi? Devi registrare un contratto d'affitto? Hai perso la tessera sanitaria e devi richiedere un duplicato? Ora puoi videochiamare un nostro funzionario e parlare faccia a faccia, come se fossi in ufficio. Con il nuovo servizio di videochiamata, infatti, fissi in agenda una video call con un nostro funzionario e ricevi assistenza proprio come allo sportello, ma comodamente dal tuo PC, smartphone o tablet. Prenota un appuntamento e dialoga in diretta con il funzionario dell'ufficio più vicino a te o che hai in carico alla tua pratica. Quali servizi puoi ricevere in videochiamata? Puoi per esempio registrare un contratto d'affitto, ottenere assistenza su dichiarazioni o rimborsi o chiedere il duplicato della tessera sanitaria. Anche l'ufficio dell'Agenzia può proporre al contribuente un appuntamento in videochiamata, se è utile per chiudere una pratica in maniera più semplice e veloce, ad esempio per approfondire alcune richieste presentate via mail o back. Come prenotare la videochiamata Puoi prenotare il tuo appuntamento dalla sezione dedicata del sito Prenota un appuntamento o tramite l'app dell'Agenzia. Scegli tra le aree di assistenza attiva in videochiamata atti e successioni, dichiarazioni e rimborsi, codice fiscale e duplicato della tessera sanitaria. Seleziona il giorno e l'ora desiderati e ricorda che per procedere con la videochiamata è necessario prima aver letto e accettato l'informativa tutela della privacy e le condizioni generali del servizio. Durante la videochiamata ti consigliamo di tenere a portata di mano la documentazione necessaria al servizio richiesto per utilizzare al meglio il tempo destinato al tuo appuntamento. il nostro canale è stato un'occhiaire e che vi è iniziato a fare un'occhiaire